Rinuncerei a tutto quello che ho da dirgli, magari a far presentire, solamente per orare questa mia volontà molto semplice, che la musica popolare, contemporanea, entri nella nostra Costituzione, così come è lo sport e così come lo è in fondo tutte le arti che sono, il cinema, il teatro. Voi pensate assolutamente che la musica non ha un luogo, cioè noi non abbiamo un luogo di lavoro, cioè la musica si svolge negli stati, nei teatri, dove capita, quindi è assurdo e però è così, quindi pensateci perché molto diventa poco rispetto a quello che si può fare. E quindi io consarro questa mia conferenza, questo mio compleanno, questa mia festa a questo ideale e a questo sogno che dovrebbe diventare realtà. Quindi preferirei essere ricordato nella mia vita per quello che diventerà una legge, spero, dello Stato, piuttosto che per tutte le canzoni che ho scritto, perché le canzoni che ho scritto stavano lì, ma le leggi bisogna scriverle. Grazie. Grazie.